Buonasera a tutti e ben ritrovati con l'appuntamento Meteo di Antenna 2. Ci aspettano giornate molto fredde. Vedete dalla grafica come una profonda circolazione depressionaria con aria molto fredda che dalle isole britanniche e dalla Scandinavia raggiungerà tutto il Mediterraneo occidentale portando il primo vero freddo su gran parte del nostro territorio. Dal punto di vista dei fenomeni cosa accadrà? Diciamo che la maggior parte delle precipitazioni che saranno anche a carattere nevoso interesseranno l'arco alpino più settentrionale. Cosa intendo dire? Che sulle Alpi retiche nevicherà molto quindi intendo dire la zona di Livigno potrebbe vedere anche 50 cm di neve. Noi invece saremo protetti da questa catena alpina. Infatti l'aria fredda si andrà proprio a sbattere contro la catena delle Alpi e noi avremo forti venti settentrionali. Non escludo che questa notte, proprio quella che sta per arrivare, potrebbe cadere qualche fiocco di neve, solo fiocchi per così dire coreografici sul nostro territorio, sopra gli 800 millimetri. Quindi domani mattina potremo svegliarci sopra gli 800 millimetri con un lieve velo di neve, quindi una lieve spruzzata di neve che però non darà alcun problema perché già nel corso della giornata avremo un deciso miglioramento del tempo. Cosa accadrà nei prossimi giorni? Vedete come l'anticiclone, quindi il bel tempo, rimarrà confinato sulla Spagna, sull'Irlanda, addirittura quest'anticiclone che andrà a spingere verso l'Islanda. Questa spinta verso l'Islanda favorirà questa circolazione depressionale che si getterà sul bacino occidentale del Mediterraneo determinando questo freddo su gran parte del nostro territorio, ma sarà un freddo abbastanza secco, quindi non ci attendiamo delle precipitazioni, però sarà freddo con venti freddi orientali. Andiamo all'evoluzione del tempo per la giornata di domani. Abbiamo indicato bel tempo ma molto freddo soprattutto in montagna dove spireranno correnti intense settentrionali. Non escludo che sui confini delle Alpi Orobie, quindi intendo dire nella zona Redorta, Coca, così come nella zona dell'Adamello, quindi in alta Valle Camonica, possano esserci ancora delle situazioni con bufere di neve sopra i 2000 metri. Quindi attenzione a questo territorio. Le vette delle nostre montagne potrebbero essere interessate ancora da venti tempestosi, anche oltre i 100 km all'ora, con qualche spruzzata di neve portata dal vento. Da noi invece nella zona della media Valle Seriana e via via verso la bassa Valle Seriana spireranno i venti di Fön, quindi venti piuttosto tumultuosi. Sul nostro territorio, anche sul lago di Zeo, si farà davvero sentire il forte vento. Pressione atmosferica in calo, vedete lo zero termico addirittura in discesa a 700 metri di altitudine. Comunque nel complesso sarà una bella giornata, specie da partire dal pomeriggio e anche così in serata ci sarà una bellissima stellata. Andiamo all'evoluzione del tempo per la settimana in Valle Seriana. Lunedì arriverà un pochino di nuvolosità sul nostro territorio, farà freddo, vedete Clusone, meno 3 gradi di minima, più 6 gradi di massima, quindi temperature decisamente invernali. Zero termico a 1200 metri di altitudine, quindi zero gradi per tutta la giornata a 1200 metri di altitudine. Quindi intendo dire in zona oltre il Colle Zambla e Passo della Presolana resteranno a zero gradi per tutta la giornata. martedì il tempo gradualmente migliorerà, avremo ancora qualche locale velatura, temperatura in crollo, meno 4 gradi a Clusone, 7 gradi di massima. Mercoledì e giovedì la situazione rimarrà piuttosto invariata, vedete poco nuvoloso, cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso, ma sarà molto freddo, specie al mattino quando le minime potranno toccare nelle zone più fredde, tipo nella piana di Clusone, meno 4 o meno 5 gradi. E anche così come nella Val di Scalve e nella zona della Valle del Riso si potranno toccare anche punte di meno 6, meno 7 gradi. Venerdì la pressione è prevista in graduale aumento, quindi un graduale attenuazione anche di queste correnti fredde orientali, uno zero termico in risalita a 2200 metri di altitudine, quindi si scalderà un pochino la temperatura, specie nelle ore centrali della giornata, dove potrebbe arrivare anche intorno agli 11 gradi. E per il meteo è tutto, vi aspetto sempre qui sabato prossimo con gli aggiornamenti meteo di Antenna 2.